Buongiorno ragazze e ragazzi, buongiorno Vitamina, oggi vi parlo del catalogo della Stenum che è già iniziato il 2 aprile, termine il 19 aprile. Io penso che ordinerò qualche cosa da questo catalogo perché ci sono delle cose abbastanza meravigliose. Come vediamo in prima pagina abbiamo due tra i dit, quelli da un litro, che sono detergenti, io lo chiamo sgrassatore per pulizie pesanti. Un sgrassatore per pulire cose da giardino, persiane, pantaloni tipo sporchi di vernice, di terra, tipo quelle cose che sono ostinate e hanno bisogno di un prodotto sgrassante. Questo fa a caso vostro. 12 euro e 50 ve ne danno due. Poi abbiamo il Super Hunter Roach Killer, che è un insetticida per insetti volanti e strescianti, 7 per il 90, è buono, solo che è piccolo, quindi finisce in più in fretta. Poi abbiamo un'offerta super super, ma perché non metto a fuoco? Ma io ho comattato queste cose. Allora, tre sgrassatori. No, è proprio che non metto a fuoco. Ora sì. Va bene. Allora, tre sgrassatori, quelli da un litro, infatti due persone me li hanno richiesti, perché comunque a 20 euro tre sgrassatori che poi vi durano, tipo una vita, una vita dipende, possono durare circa tre mesi. Con me, due mesi. Perché questo sgrassatore lo utilizzo, cioè a casa lo utilizziamo per tutto. Perché comunque anche quando, tipo, manca il detersivo, o tipo quello dei piatti, o quando una deve sgrassare qualche capo, o a terra per fare le pulizie, poi lo diluisco con l'acqua e mi faccio lo sgrassatore spray. Insomma, ci sono tanti suoi utilizzi di questo prodotto. E poi anche molto efficace, molto concentrato, quindi anche quando in lavatrice, tipo una qualche capo che è molto macchiato, comunque il bucato in generale è molto sporco, aggiungete qualche goccia di sgrassatore e vi faccio vedere che le cose sgrassano. E tutti e tre vengono 19,90, quindi ottima offerta. Poi abbiamo la scrubinette, che è una specie di rete magica per pulire le stoviglie o qualcosa di ostinato, e costa 5,90. Poi abbiamo l'oven, finalmente il prodotto, cioè per il forno, perché io ho il mio forno, o lo butto o lo pulisco. Cioè, no, vabbè, vado per la prima, per la seconda, lo pulisco. Quindi aspettavo questo prodotto in offerta, perché io il forno lo pulisco soltanto con questo prodotto, capite? Perché questo prodotto è unico, è unico. Cioè, voi basta che avete il forno tipo cucinate, no? Ed è ancora caldo, spruzzate il suo prodotto, lo lasciate agire 10 minuti e poi con un panno rimuovete tutto, rimuove tutto, capite? Quindi sono 7,50 spesi, bene. Poi abbiamo le Magic Spiral, una 5,90 euro, due confezioni da due pezzi, 9,90. Lo sapete, queste sono uniche, non vi graffiano le superfici, è accio inossidabile, non diventa puzzolente. Insomma, conviene tanto, perché sono buone. Poi abbiamo i panni, 6,90 euro scelto per il bagno, per qualche altro cosa. A me, mi piacciono. Poi abbiamo questa offerta, 13,50, molto molto conveniente. Abbiamo il pulitore per i vetri, lo spray. E lo spray a secco per pulire, per esempio, i divani, disinfettere i divani, o anche eliminare cattivi odori da tutte le superfici non lavabili, come il divano, o qualche altra cosa, anche i telecomandi, i telefoni. Insomma, comunque, una coppia perfetta, 13,50, conviene. Poi abbiamo gli Ice Spray, che sono dei deodoranti potenti per la casa. Hanno il suo pratico spruzzatore, erogatore. Deodore e profumo piacevolmente la tua casa, fino a un'ora dopo l'utilizzo. Ultra veloce, neutralizza immediatamente i cattivi odori, senza ricaduto di liquido dopo l'utilizzo. Settevra in 90 abbiamo limone e verbena o fiori di cotone. Wow! Poi abbiamo l'Easy Wad, che è una specie di pulitore protettivo per il legno d'esterno, eliminando le macchie di alimenti, bevande, grassi, insetti. Qua è il filtro protettivo anti-UV, quindi per il sole, protegge anche per quanto riguarda il sole. Preserva la bellezza del legno e ne evita l'ingrigimento e la secchezza. Costa 8,90€ spray e i mobili ritorneranno. Poi abbiamo il Forniture Cream, che è una crema di bellezza per i mobili in legno, perché maschera e le imperfezioni nutrire i mobili e lascia una pellicola protettiva. Io ve lo straconsiglio perché è un ottimo prodotto, perché è tipo voi avete un tavolino in legno che magari non vi piace, che magari è vecchietto. No, è proprio vecchio, nel senso che il legno non è più come quello di prima. Voi basta ci passate questo prodotto con un panno morbido e vi faccio vedere che il vostro tavolino rispecchia una meraviglia. L'ho fatto pure io a casa, quindi. Poi abbiamo il Velvet, che è il panno magico per lucidare le superfici, 7,90€. Poi abbiamo l'offerta, praticamente, per chi ha acquistato alcune persone, non so se è per tutti valida questa offerta, o per chi ha acquistato il set casa, quello dell'altro 8,90€. Acquistando il Mop Duster, che costa 8,90€, potete avere questo set di 3 contenitori guzzini, a soli 6,99€, ha un valore commerciale di 23,50€, quindi approfittatene. Oppure potete acquistare anche il gommaggio della Chiotis, 8,50€, ma arrivando a un certo punto è meglio il Mop, perché comunque il Mop è quello per la polvere, insomma, è fantastico. Poi abbiamo il Soft Tainer, che è praticamente un ammorbidente concentrato per le pelli sensibili, 8,90€. Poi abbiamo il Dail Wash, che è ottimo, ve lo straconsiglio, fa un profumo da morire. Smacchia, che è una meraviglia, ha una bella fragranza. 9,90€, un litro e mezzo, e con 1,90€ potete prendere anche questo sacchetto, che è per pulire, tipo, in lavatrice, mettete, tipo, che so, i reggiseni, le cose più delicate. Poi abbiamo il Liss, che è quello per addio ferro da stiro, perché spruzzate quando è bagnato e si asciugano. Poi abbiamo il Braclissere, che è quello per le tarme. Poi abbiamo l'Active WC, che è un prodotto disincrostante per il WC, elimina i batteri, i batteri ha un'azione disincrostante, insomma, 7,90€. E' buono questo, ha anche una bella fragranza. Poi abbiamo la Scruby Flower, che è quella per il bagno, sempre la rete, 7,90€. Poi abbiamo il Bath Cleaner, che è un pulitore quotidiano per il bagno, da un litro, ha una bella, ma bella profumazione. Elimina i residui di sporco, sapone pancare, ideale anche per tutte le superfici del bagno. E costa 7,90€, è un litro e più dura tanto. E infatti lo trovo anche molto efficace di questo. Sono tutte e due buoni, però questa è una bella fragranza. Poi abbiamo l'Express Clean, che è una polvere per il WC, è una schiuma attiva disincrostante, che è come si dovrebbe fare tipo una volta a mese, questa cosa. Che è una schiuma che agisce fino in fondo, donando una bella brillantezza e pulizia al WC. Anche perché va anche sotto l'acqua, quindi 8,90€. Scusate se ho la mano tutta brillantinata, perché stavo provando un illuminante. Poi abbiamo questo set molto molto carino, che si chiama Magic Tool Handle. Praticamente è un set per la casa, una specie di scopa. Chiamiamo la scopa. Che ha tutte queste cose, che adesso vi vado dicendo. È una rivoluzione delle pulizie quotidiane. Ha il manico telescopico, quindi è lui che si piega non vuoi, ha la testa in tre diverse posizioni, costa 49,90€ e ha tanti, ma tanti panni. Che vi dico, dal soffitto ai pavimenti sono questi due, arancione e verdino. Questo asciuga e spolvera efficacemente, questo pulisce e gratta delicatamente lo sporco, questo asciuga lucida e non lascialone, quindi va bene per i vetri, questo pulisce e lava efficacemente, quindi questo pulisce e questo asciuga, questo pulisce e questo asciuga e spolvera. Insomma, sono belli. E poi c'è la testa completa. Questa 49,90€ però è bella. Se riesco a trovarvi una foto, magari la metto anche nel gruppo. Poi abbiamo la Slimy Line Broom Hand, che è una specie di paletta. Testa e paletta vi danno loro, soltanto la testa e la paletta che si uniscono. Sono 12,90€ ed è una scopa bella, per chi ti raccoglie tutto. Poi abbiamo il Sunny Floor, che è un pulitore decenerante, quindi vi toglie anche la cera se ci sono dei residui di cera. Lui lo toglie anche, perché è a base anche di ammoniaca, è bellissimo, fa un profumo da morire, vi pulisce, che è una meraviglia. Settevra in 90. E anche per il marmo fa il suo effetto, perché ho il finto marmo nel corridoio. E anche se è finto marmo, cioè risprende lo stesso, capite? Cioè fa anche il suo dovere. E adesso vi parlo invece della parte make-up, no? Ci sono bellissime novità per quanto riguarda la linea Floor Mar. Sapete che ormai la Stenum parte con questo marchio. E infatti è uscito in questo, in edizione limitata, lo spray per le unghie del 125 ml, fissatore smalto spray 5,90. Poi abbiamo gli smalti nuovi, nuove colorazioni, colori più intensi, extraluminosi, e costano 3, allora 1,5 euro, 3,12 euro. Poi abbiamo il fondotinta gamba perfetta in spray, quindi non avete più imperfezioni, senza timore, anche senza collant, si asciuga rapidamente, non manca gli indumenti. 10,91 euro, potete scegliere tra light e medium. A me sembra una cazzata, ma comunque chi lo utilizza non lo so, ok? Io ste cose le uso. Poi abbiamo i gloss a 5 euro, rossetti matto 8,50 euro, sono molto belli questi rossetti, a me incuriosiscono. Poi ci sono le matite labbra 1,8 euro, 2,14 euro. Poi abbiamo un pennello labbra di 3,8 euro, alcuni rossetti lunga tenuta 7,50 euro, eyeliner 5,90 euro, maschera a partire da 9,50 euro, vabbè. Poi abbiamo la palette di 5 correttori 8,90 euro, ogni correttore in base alle vostre esigenze, infatti credo che prenderò perché mi serviva. Mi serve tanto. Poi abbiamo ciprie in polvere invisibile o compatte a partire da 11,90 euro. Poi abbiamo il togli smalto 4 euro. Poi abbiamo 3 prodotti efficaci, assorbranti e delicatezza per gli occhi. E se vi interessa c'è anche il kit da portare in viaggio 2,99 euro e poi abbiamo 3 ve ne danno le pagate 2,16 euro. Sono degli stroccanti rapidi, quelli bifasici che sono simili a quelli dell'Amon. Poi abbiamo questo prodotto che mi interessa un germicellare idra praticamente elimina impurità rimuove efficacemente tutti i tipi di make-up dal viso idrata la pelle un formato da 100,5 e 3,991 4,90 Poi abbiamo le creme da giorno idratanti o da notte 16,91 Poi abbiamo questa crema che si chiama Defi Detox è molto buona ho provato questo trattamento da notte da questo 19,90 ed è molto molto buono con i vari oli è bella è per l'inquinamento ma ti tratta tanto la pelle Poi abbiamo della Chiotis il Defi Detox che è praticamente un olio surcante anti-smog 12,02 da 200,01 Poi abbiamo la Specific Junness 25,90 che è una crema per il viso Poi abbiamo il fondotinta matt 16,90 altri prodotti acquistando gel doccia scegliete un prodotto complementare al 50% ma già forse è tipo già spunto si capisce va acquistato a 7,90 questo e uno dei due lo prendete al prezzo indicato che vedete nella confezione nel catalogo stessa cosa qui invece questi sono quelli per uomo di odorante varie cose poi abbiamo i prodotti per la cellulite altre creme altre creme e base vabbè poi c'è il porpose che è tipo una crema questo ricco nutriente previsto al corpo 13,90 poi abbiamo due pedi mist contro le 14,90 e uno squida poco di vele poi abbiamo tutto a 5,90 tre deodoranti 20 euro questi deo cream e deo gel poi abbiamo altri prodotti tipo tutto il set 19,90 che sono questo crema immediatamente il prodotto dopo la puntura di insetti questo è gel all'arnica e questo è lo spray poi abbiamo con 15,50 all'uno questi formati spray diciamo per il sole e i salari poi abbiamo il dopo sole 27,90 poi qui tre sun protection che sono gli stick ideo 9,90 per le parti più delicate poi abbiamo prodotti per il viso poi al porpose micellare l'acqua micellare nuova che rispetta anche la pelle più sensibile 8,90 e basta questo è tutto il catalogo della seno del ciclo 6 spero che vi piace e ci vediamo al prossimo video ciao ciao